una rivoluzione ora qui intanto macerie a piumo genera meno sono nella merda fino al collo qual è il problema dimenticatevi dimenticatevi di me grazie per favore grazie fate largo loro si infilano un enorme cazzo nel culo e il problema è che il cazzo è loro il culo è il nostro